Un segno di riconoscimento per l'impegno quotidianamente profuso al servizio della città. Nella Sala Giunta del Comune, l'assessore alla scuola Anna Maria Palmieri ed il sindaco Luigi De Magistris hanno consegnato pergamene e medaglie al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco come ringraziamento del lavoro svolto in particolare durante la festa della Befana in Piazza Plebiscito. Un clima di collaborazione interistituzionale molto forte che come amministrazione abbiamo immediatamente apprezzato. Devo dire che il Corpo dei Vigili del Fuoco non soltanto tutela la sicurezza di tutta la cittadinanza ma è stato particolarmente vicino all'amministrazione in tutte le necessità, dalle urgenze e dalle criticità che affliggono la città al clima di festa, cioè ai momenti festosi come per esempio il 6 gennaio la festa della Befana. Siamo stati presenti da un po' di anni a Piazza Plebiscito in occasione della Befana per regalare un sorriso ai bambini siamo orgogliosi di questo riconoscimento che oggi il Comune, il sindaco ci vuole tributare lo accettiamo come segno di stima per il lavoro che quotidianamente facciamo nei confronti dei cittadini di questa città chiaramente rinnoviamo il nostro impegno sia nelle occasioni festose in cui ci prestiamo anche a giocare un po' per fare felici i bambini ma soprattutto rinnoviamo il nostro impegno nell'assolvimento del nostro compito istituzionale nei confronti di tutti coloro che hanno bisogno della nostra opera di soccorso. Grazie Grazie Grazie